salve a tutti ragazzi oggi vi porterò una partita del 1960 so che al momento sto portando video troppo antichi e penso che comincerò a portare video un po più recenti per esempio parlando degli anni 2000 del 1990 per esempio in cui vediamo come partecipante anche Mariofero o anche assoluti dove vediamo giocare Borghetti ecco porterò anche quelle partite lì ma parliamo in particolare di questo video qui vediamo sfidarsi il maestro Umberto Righi contro il maestro Luigi Tezza l'apertura è la numero 18 considerata 1 n comincia con 21 17 11 14 e 24 20 la principale come possiamo intuire è la 14 18 che mette una pedina qua mette la meta molto fastidiosa per il gioco del bianco però il nero utilizza una sotto variante 12 16 un po più debole perché lascia spazio per la meta del bianco ricordiamo che la pedina in meta per il nero è la casella 18 mentre la pedina in meta per il bianco è la casella 15 ora qui c'è ancora 14 18 però il nero fa 7 12 uscendo dalle linee teoriche comunque rimanendo su una partita pari il bianco fa 25 21 cambio poi viene giocata a 3 7 qui viene fatta 27 22 con uno scopo preciso prepara un tiro a 3 ad esempio facciamo una mossa a caso ecco che qui si darebbe sacrificio poi tiro a 3 quindi prepara questa linea qui il nero e la toglie con 14 19 viene fatta 22 18 qui il nero fa 5 10 invogliando il bianco a fare 18 14 per poi bloccarlo con 15 poi viene fatta 21 18 comunque tutto pari qui il nero fa 16 20 bianco 30 27 minaccia un diretto così come il nero sta minacciando con 7 11 adesso il nero quindi fa 20 24 e impedisce con questa molti dei movimenti del bianco infatti il bianco per esempio non può fare 27 23 cioè il tiro a 3 con ricattura però qui il nero va a dama con un pezzo in più non può dare cambi né questo né quest'altro quindi gioca 29 25 ora qua il nero decide di mantenere il gioco chiuso perché poteva anche fare il tiro però da questa posizione non gli conveniva infatti secondo il motore qui il bianco ha vantaggio comunque gioca 7 12 adesso il bianco fa 25 21 12 16 e adesso può essere fatta 27 23 o anche prima non ha importanza la posizione comunque sarebbe sempre questa comunque viene fatta prima 25 21 e dopo 27 23 ora arriviamo qui a un momento in cui il nero deve essere preciso per mantenere questa partita in parità molti di noi probabilmente almeno parlo per me io avrei fatto 4 7 da questa posizione 4 7 aspettandomi ovviamente 14 11 comunque la partita qui è in completa parità con sacrificio ok e ci poteva anche stare ecco però qui il bianco avrebbe 15 12 15 12 non 14 11 cioè mosse comunque da motore difficili da trovare poi 23 20 e 26 22 con questo tiro poi c'era 10 che deve per forza catturare e qui il bianco un pezzo in più certo deve cercare di difendere questi pezzi in qualche modo comunque qui per il motore il bianco a vantaggio non un vantaggio proprio enorme però è un vantaggio abbastanza considerevole che se prende tutte le mosse le fa tutte giuste e il nero fa qualche imprecisione beh questo vantaggio tenderà a aumentare comunque il bianco qui ha più chance da questa posizione però il nero fa la mossa migliore del motore 19 22 ragazzi 19 22 e chi l'aveva vista questa e poi fa 4 7 tutto questo serve perché il bianco non ha mosse non ha mosse l'unica mossa che può fare l'unica disponibile 14 11 beccandosi questo ovviamente il nero ha sacrificato un pezzo prima sacrificato un pezzo e dopo poche mosse lo riprende partita in completa parità ora andiamo veloci ragazzi perché qui comunque la partita rimarrà tutta in perfetta parità comunque qui il bianco fa 23 20 cerca di bloccare i movimenti di queste pedine infatti nome 13 sbagliata già c'è questa quindi viene fatta 22 26 allora il bianco avanza con i suoi pezzi allora qui adesso è il nero che glielo impedisce con 26 impedisce il movimento di queste due pedine rischiosissimo però qui la posizione è pari perché ovviamente il nero ha calcolato che i movimenti e la dama non riusciranno ad attaccare facilmente questi pezzi ora viene fatta 8 4 e qui il nero non attacca fa 26 21 perché se attaccasse qui ci sarebbe la seconda dama i pezzi ancora sono esposti e la partita sarebbe persa quindi qui nero fa quindi 26 21 il bianco ok si prepara con questa mossa a prendersi la dama sacrificando un pezzo infatti è quello che fa comunque posizione pari e qui il bianco invece di andarsi a prendere pezzo cerca di mantenere la dama qui a bloccare quelle pedine qui secondo me adesso il bianco attacca perché ovviamente la dama sta andando a cercare di difendere il pezzi io avrei mantenuto la minaccia facendo 26 comunque cercando di fare una seconda dama posizionandola in qualche punto dove non potevano più scappare e qui per il nero doveva assolutamente trovare in un momento per dare il sacrificio per esempio 5 10 e scappare via poi con la 6 oppure dare il sacrificio ecco 6 11 poi scappare col pezzo una volta che la dama arriva in un punto dove può difendere la pedina comunque il bianco ha fretta di pareggiare muove 14 10 qua il nero gli permette il cambio comunque dopo un po di mosse ecco il nero cerca di non far avvicinare troppo la dama che porterebbe via la 17 anche se già da qui il bianco poteva portare via la 17 però vuole bloccare la 9 vuole avere più chance di vincere ovviamente qui posizione completamente pari qui come vediamo il nero si è posizionato per dare il cambio il bianco lo schiva ed ecco che la posizione è pari e la partita termina in parità bene per questo video è tutto io vi ringrazio per la visione vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi piace di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e noi ci vediamo alla prossima